Ciao ragazzi, sono TheRanogame e come ho detto dal video oggi è lo speciale 5000 iscritti ringrazio a tutti voi per questo grandissimo traguardo e grazie mille per il supporto e oggi come regalo di questo grandissimo traguardo vi faccio vedere la mia postazione da gaming la mia postazione da gaming che si trova qua nell'angolo e adesso ve lo faccio vedere allora ragazzi questo video ho subito in 4k con la fotocamera dell'iphone 13 spero che si veda bene, ecco la mia postazione ragazzi la mia postazione si presenta così qua c'è la mia serie da gaming 100 ore di sedia e questa è la mia postazione ovviamente ho cercato di sistemare il più bello possibile prima di fare un video perché veramente se volete vedere come era messo prima era messo veramente malissimo ok ok adesso vi faccio vedere tutto intanto però vi faccio vedere com'è la bellezza cioè nel senso oddio 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 così non va bene così non va bene c'è troppo riflesso del sole ok perfetto così va bene ok a postissimo a postissimo a postissimo quel tutto ok qua allora allora qua abbiamo il microfono con cui uso per registrare che è quello della wave quello wave 3 giusto pagato 130 euro sì e quello che uso per registrare dunque la voce il microfono che sentite negli ultimi video è con questo microfono che c'è pure un sensore che quando schiacci cioè quando vabbè passi la mano si muta e si smuta bellissimo vabbè poi vabbè tastiera della bluestack che è una tastiera che ha vinto mio fratello a un torneo di cod mobile della bluestack e uso questo perché è veramente veramente bello bello veramente bello cambia anche il colore bellissimo bellissimo e poi ok abbiamo uno schermo da 165 ads della Acer non so se si vede bene della Acer ok e questo è il mio canale youtube come vedete adesso ragazzi siamo ai 4800 iscritti ma il video pubblicherò quando raggiungeremo i 5000 iscritti allora andiamo vabbè cuffie della Hype cuffie della Hype Streets chiamano così sì non mi dico più il nome per questo e allora poi allora mi volevo far vedere che ho fatto un nuovo ban mi sono fatto fare un nuovo ban da uno su telegram veramente bellissimo bellissimo ok qua abbiamo vabbè il pc in sé qua abbiamo un pc in sé il computer in realtà si vede pure il mio riflesso che in realtà adesso non posso aprire tutto però se vedete penso che si veda bene ha un i5 10600k un schieravido una 1060 da 3 giga che è raga lo so potrei mettere bellissimo una bellissima scheda video ma adesso io non ho nessun problema con questo con questo computer reggo tutti i giorni a qualità media alte GTA faccio tranquillamente più di 60 fps a tutto ultra e adesso non ho intenzione di prendere tipo una 3070 così non ho intenzione perché io raga io sono una persona che finché il mio computer regge qualità media alte anzi nel gioco in cui mi interessa giocare non cambio componenti io rimango così fino a che non c'è quel gioco che esce e mi fa e mi fa cambiare la scheda video o anche il processore a per questo è la chiese della cos'è si presenta così bellissimo chiese il computer ha assemblato da me ho assemblato io ho comprato tutti i componenti da parte e ho assemblato tutto da solo allora poi una cosa che volevo farvi vedere è il mouse ovviamente io ho il mouse della logitex g500 g402 si si vede foco g402 esattamente in realtà è questo mouse che uso di più un secondo mouse che adesso vi faccio vedere che è questo della raze questa è la deathlade deathlade essenziale ho anche quello della mamba elite sempre della raze per una storia e cavolo sia finito ma diciamo che di solito uso di più questo mouse cioè faccio più gps con questo mouse quando giocamani uso questo quello arrivo ai 10 cps vedi con con questo qua della raze deathlade arrivo ai 8 8 massimo faccio nel fast click non so perché è un po c'è un click un po non so non mi piace non mi piace ce l'ho usavo per giocare a csgo però c'è questo che è veramente bellissimo ok penso di aver fatto vedere tutto sì e niente questo è tutto penso di non aver dimenticato niente niente ragazzi questa è la mia postazione spero vi piaccia dimenticato ragazzi un voto nei commenti ragazzi da 1 a 10 aspetto i vostri commenti vedremo niente vi ringrazio ancora ragazzi per i commenti iscritti e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao